Ma secondo te, un creatore di contenuti su YouTube deve guadagnare con la pubblicità, con il product placement o con dei contenuti a pagamento? Con niente! Niente? Sì, è brutto quando ci sono i soldi. Lo YouTuber deve fare video solamente per passione. Buongiorno. Bentrovato, mio esimio cliente. Mi permette di offrire i miei servigi nelle modalità alle gradite. Hanno mica una telecamera in HD? Pronti con la telecamera! E un microfono a condensatore con ingresso line-in? Eccolo qui per lei! E un set di quattro fari daylight con supporti regolabili? Et voilà! Un green screen di 6 metri per 3? Pronti col panno verde! Un supporto regolabile per gli sfondi? Ma si figuri! Un computer potente per poter fare i montaggi dei filmati in HD? Siamo, siamo, sì! E infine una connessione iperveloce anche in upload. Ogni suo desiderio è un ordine! Scusi un attimo, eh! Pronto? Sì? Ah, ciao! Tutto bene? Quale lavoro? Ah, ho capito! 600 euro in tutto, eh! Non male! Eh, guarda, ci vorrei volentieri, però purtroppo la prossima settimana devo montare e caricare tre video. Sono in un ritardo bestiale. Sì, buona idea! Ah, vedrai che sarà contentissimo di questo lavoro. Mandaci lui, vai! Ok, ciao, ciao! Quanto devo? Fanno 1.600 euro qui. Ecco, io però non ho soldi, pago in passione. Mi perdoni, esimio cliente? Ecco, io non ho un euro, pago con la mia passione. Quanta ne vuole? Ne ho tanta. Sono desolato, esimio cliente, evidentemente c'è stato qualche deplorevole malinteso. Noi accettiamo solo pagamenti in euri. La sua passione può sempre introdurla nel suo medesimo corpo per via rettale. Arrivederci. Ma va in culo, vai! Ok ragazzi, se qualcuno di voi è riuscito a pagare il conto dell'Esserunga con la stima dei fans, oppure a entrare in tribuna allo stadio dicendo che è tanto una brava persona, fatemelo sapere nei commenti, grazie.